Sparky era un grande cane, un grande amico. Quando perdi qualcuno che ami, lui non ti lascia mai, veramente. Sarà sempre nel tuo cuore. Non lo voglio nel mio cuore. Lo voglio qui con me. Anche dopo la morte, i muscoli rispondono all'elettricità. Benvenuti ad Antiprima Cinema. Vi lascio con il trailer di oggi e subito dopo le notizie di Cine. Sparky! Non ci posso credere. Che l'ha giusto io. Il tuo cane di... Vivo! Victor ha riportato in vita un animale. Con fulmini e boom e... Succederà qualcosa di grosso. Chi è il responsabile di questo? Rivollevo solo il mio cane. Possiamo fare di più. Alzati, Colossus! Vivo! Victor! Andiamo! Aiutami! Il mio problema è più grosso. Sì, ha ragione. Dai tre diversi generi di registi, T. West, Joe Swanberg e David Bruckner, Magnolia Pictures ha rilasciato il nuovo poster horror per il film VHS. L'immagine è un teschio composto tutto da videocassette. La trama è molto originale, però allo stesso tempo brutale. Un gruppo di criminali è assunto per ritrovare una rara videocassetta. Ma la ricerca non è così semplice, poiché per trovare quella giusta dovranno guardarne moltissime, una più strana e spaventosa dell'altra. Nel cast, Calvin Breeder, Lane Huggins, Adam Wingard, Hannah Fehrman e molti altri. E per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima puntata.